ciao amici buon weekend rosso prima giornata del weekend rosso in realtà abbiamo avuto una gustosa anteprima ieri stiamo entrando in autodomia in realtà siamo già dentro il parco adesso facciamo vedere i biglietti per davvero aumentati dalla ingresso b sono e ci congiungiamo però la crew ci congiungiamo ha visto la più ci congiungiamo con l'ingresso santa maria delle serbe grande piero giusto così fede allora federico cari amici di elettro tv qui prendiamo federico che al suo primo gran premio d'italia monza no 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 siamo siamo in diretta ci manca la tua bold prediction perché ieri non c'era in diretta che che vince leclerc leclerc è una bold prediction sono d'accordo grande ragazzi siamo nella zona vecchia tribuna delle piscine che adesso abbiano cambiato nome lascia la partenza siamo riusciti ad entrare come sempre con me come dicevo il mio amico micheletti che ieri sera ha seguito la diretta e ha detto che non ho saputo se gli è piaciuta la diretta o no sì sì certo non mi sembrava tanto convinto i grandi vecchi di monza è venerdì siamo nella solita zona tipica del venerdì cioè la zona dove c'è un po di attività diciamo così tra il rettifilo della partenza e il rettifilo opposto la gente non tantissima per il momento parcheggio di supercar parcheggio di supercar di emerson ah sì stiamo pagando senza meta con i figli del prezzo stiamo in una zona di merchandising in buona sostanza allora con le magliette gialle costano 80 euro invece che 65 75 non ho ancora capito quanto l'ho pagata questa è la vecchia zona del villaggetto meno frequentata del solito una volta una volta era frequentata parecchio tra un po ragazzi andiamo in tribuna grazie a tutti siamo qua con parte della scuderia ferrari club in particolare uno dei figli del prezzo quindi cioè qui siamo veramente gente importante siamo alla fan zone e a parte che abbiamo lo sfocus il blur la fan zone è chiusa sappiamo tutti molto bene abbiamo anche un altro figlio del prezzo qua con noi capi da padel e ancora tutto beh diciamo che visse le vicissitudini ci sono stati come dire dei disguidi tecnici quindi ancora tutto chiuso imbarazzante un po' imbarazzante lo è onestamente un po' imbarazzante lo è anche perché non te lo dicono ti fanno arrivare qua e poi scopri che è chiusa andiamo ragazzi però ciao a te allora questo è un anno strano a Monza vero? si molto strano fatti vedere che così ti inquadrano anche a te è un anno molto strano è un anno molto strano siamo alla fan zone finita fan zone forse ci hanno appena detto che apre domani forse domani forse domani forse domani quindi zona food and beverage qua ci sono le birre vedete possiamo pagare anche con l'NFC questa è la coda per caricare il braccialetto oppure ottenere i gettoni con la cassa qui c'è il Pia Dinaro i migliori food drink italiani questo è quello che c'è da mangiare il panino con la cassa non lo vedo questa è sempre la cassa questa è sempre la cassa per caricare i token non è la coda per prendere la roba questa è la coda per prendere la roba questa è sempre la coda per prendere le cose cassa 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 questa è la cassa cash perché poi se ci sei notate che poi la cassa alla birra non è che sia chissà che cosa quindi questa è la situazione ok, quindi noi abbiamo una grande scelma ci sono molti persone che sono anche per usare anche per il paradi è qualcosa che vuoi dire a loro? alla camera alla prossima ciao a tutti per più di sette decenni ha dedicato la sua vita al servizio pubblico con dignità e direzione e ha ispirato tanti in tutto il mondo per favore vi chiediamo di unirvi a noi nell'osservare un minuto di silenzio in sua memoria grazie a tutti Formula One, the FIA and the whole Formula One community mourns the passing of Her Majesty Queen Elizabeth II. For more than seven decades she dedicates her life to public service with dignity and devotion and inspires so many around the world. Please join us now in observing a minute's silence in her memory. A cambio, a cambio. Diciamo quelli più estremi sono stati scartati a priori, quindi si va dalla bianca a marcia. Sarebbe la stessa lada. Buon te! Buon te! Buon te! Buon te! ignoranza, ignoranza amaranza il mio compare di mille 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 avventure anche il Mauri eh, anche il Mauri che fa vedere niente ciao amici, volevamo dirvi che siamo solo con gli animi, ma siamo messi per il nuovo tutta la velocità a chiudere questo film un lato del Intro il comienzo della gente un lato 121.664 uno dell'inferno 121.664 uno dell'inferno 121.8 un lato 122.3 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.